Se non l'hai visto mai, perché non provi a immaginare? Guarda, questo è un semplice cartone preparatorio, senza nessuna pretesa di essere visto da altri, se non da te. Giacerli abbandonato, raccogli solo polvere. Altro che gloria o prezzamenti di grandi critici, neanche l'artista che l'ha creato ne ha più avuto cura. Avrà ora anche poco valore, ma è stato un tempo indispensabile. Nient'altro che un rotolo che soffre più che altro per tutta l'aria che attraversa i suoi fori, fatti invece per far passare di colore. Dorme nell'attesa che, arrivi quel giorno benedetto. In cui qualcuno decida di essere stanco di vederlo accartocciato in un angolo, e considerandolo del tutto inutile, lo usi per accendere un fuoco. Ma la vita a volte è strana, decide un po' come gli pare. Usa il tempo per distribuire e in parte togliere, a volte nascondere, altre confondere, ma difficilmente è prevedibile. Saranno le mani gentili, quelle che lo apriranno. E lisceranno ogni sua piega e nello svolgerlo lo apprezzeranno, perché un cartone preparatorio anch'esso parte di un capolavoro. E lisceranno ogni sua piega e nello svolgerlo lo apprezzeranno, perché un po' come gli pare.